Tutto è un'altra cosa, dal bisogno di far sentire ai figli, Elia è viola, Elia è sordo, viola e udente, le vibrazioni, tramutare quello che è il modo di suoni e le vibrazioni, farli rettere e partecipi, tutti e due, in un modo diverso di ascoltare. Quindi, per Elia è sordo un, come dire, qualcosa di più primario, per chi ora, per udente, un riscoprire e un'attenzione verso quello che è il modo di suoni, che fuori è un modo di vibrazione, perché il nostro orecchio, il nostro cervello, l'altro punto è quello che noi ascoltiamo, però l'origine è di vibrazione. Grazie. 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 Sì, sta per te proprio un diverso modo da ascoltare, di più la pelana appunto l'abbiamo provata con bambini, persone adulte che hanno imparato e hanno riscoperto cose che non avevano più provato, perché da fin da piccoli percepiamo tante cose, incameriamo tante, poi nel crescere il cervello e la razionalità ci fa togliere parte di quello che solitamente magari non ci serve, o pensiamo che non ci serve, invece la pelana riesce ad attivare tutta una sensazione che abbiamo accantonato, che conosciamo e che non abbiamo usato, questa è la pelana generale. Grazie.